In questo tutorial vediamo come sviluppare cubi di binomio. Le formule che applicheremo sono le seguenti. a più b al cubo uguale alla terza più 3 alla seconda b più 3ab alla seconda più b alla terza e a meno b alla terza che risulta essere uguale ad alla terza meno 3a alla seconda b più 3ab alla seconda più b alla terza. Partiamo da questo esempio. Dobbiamo svolgere il cubo di a più 2 e allora dovremo utilizzare la prima formula in quanto i termini risultano essere positivi e allora devo calcolare il cubo del primo termine. Il primo termine nel nostro caso è a e vado a scrivere a alla terza. Poi devo calcolare 3 alla seconda b e quindi mi metto di lato e scrivo 3 per a alla seconda ossia il quadrato del primo termine. a alla seconda è proprio a alla seconda per b ossia il secondo termine e allora scrivo 2. 3 per 2 è pari a 6 e quindi ottengo 6a alla seconda e quindi nello sviluppo del cubo il secondo termine sarà pari a più 6a alla seconda. Passo poi a calcolare 3ab alla seconda e allora devo scrivere 3 per a ossia devo ricopiare il primo termine e in questo caso è proprio pari ad a per b alla seconda e allora devo scrivere 2 alla seconda. 2 alla seconda è uguale a 4 per 3 ed ottengo 12a e quindi il terzo termine sarà pari a più 12a. Infine devo calcolare b al cubo ossia 2 elevato alla terza 2 alla terza è pari a più 8. Svolgiamo questo cubo abbiamo 1 più y alla terza nel nostro caso a è pari a 1 mentre b è pari a y e utilizzeremo la prima formula devo scrivere a alla terza e quindi devo calcolare 1 alla terza 1 alla terza è pari a 1 devo poi calcolare 3 alla seconda b mi metto di lato e scrivo 3 per a alla seconda ossia devo scrivere 1 alla seconda per b dove b nel nostro caso è pari a y 1 alla seconda 1 alla seconda è pari a 1 per 3 ed ottengo 3 e quindi a conti fatti otteniamo 3y e allora il secondo termine dello sviluppo è 3y poi devo calcolare 3ab alla seconda e allora vado a scrivere 3 per a a nel nostro caso è pari a 1 e quindi scrivo 3 per 1 per b alla seconda b è y e allora scrivo y alla seconda e quindi otteniamo 3y alla seconda e quindi il terzo termine è 3y alla seconda infine dobbiamo calcolare b alla terza e quindi devo calcolare y alla terza e scrivo y alla terza vediamo quest'altro esempio dobbiamo sviluppare x meno 2 alla terza visto che in mezzo c'è il segno meno utilizzeremo la seconda formula e allora devo calcolare il cubo del primo termine a nel nostro caso è x e allora scrivo x alla terza qui c'è un segno meno che vado a ricopiare e poi devo calcolare 3a alla seconda b e quindi scrivo 3 per a alla seconda a nel nostro caso è x e allora scrivo x alla seconda per b b nel nostro caso è 2 e quindi scrivo per 2 3 per 2 è pari a 6 e quindi ottengo 6x alla seconda e allora il secondo termine è pari a 6x alla seconda abbiamo poi un segno più che vado a ricopiare e devo calcolare 3a alla seconda e quindi scrivo 3 per a nel nostro caso a è pari a x che ricopio per b alla seconda e quindi devo scrivere 2 alla seconda 2 alla seconda è uguale a 4 per 3 ed ottengo 12x e quindi ricopio come terzo termine 12x ricopio poi questo segno meno e sviluppo b alla terza b è pari a 2 e 2 alla terza risulta essere pari ad 8 sviluppiamo xy meno un terzo alla terza dobbiamo utilizzare la seconda formula in quanto qui in mezzo c'è un segno meno prima di tutto calcolo a alla terza a nel nostro caso è xy e quindi vado a scrivere x alla terza y alla terza ricopio poi questo segno meno e vado a calcolare 3a alla seconda b e quindi scrivo 3 per a alla seconda ossia devo calcolare il quadrato di xy e quindi scrivo x alla seconda y alla seconda per b b nel nostro caso è pari a un terzo semplifico ora questo 3 con questo 3 e quello che mi rimane è x alla seconda y alla seconda e allora come secondo termine ho x alla seconda y alla seconda poi ricopio questo segno più e vado a calcolare 3ab alla seconda e allora scrivo 3 per a a nel nostro caso è pari a xy per b alla seconda ossia devo scrivere un terzo alla seconda ed ottengo 3xy un terzo alla seconda è pari a un nono semplifico ora il 3 con il 9 e a conti fatti otteniamo un terzo xy e allora come terzo termine scrivo un terzo xy andiamo avanti e ricopio questo segno meno e vado a calcolare il cubo di b ossia devo calcolare un terzo alla terza 3 alla terza è pari a 27 e quindi quello che ottengo è un ventisettesimo sviluppiamo questo cubo in mezzo c'è un segno meno e allora utilizzerò la prima formula a nel nostro caso è pari ad a alla seconda e allora devo calcolare a alla terza e quindi devo scrivere il primo termine a alla seconda tutto quanto alla terza applicando le proprietà delle potenze 2 per 3 ottengo 6 e allora scrivo a alla sesta e allora il cubo del primo termine è a alla sesta poi ho più 3 alla seconda b e quindi scrivo 3 per a alla seconda a nel nostro caso è alla seconda e quindi devo scrivere a alla seconda tutto quanto alla seconda perché devo calcolare il quadrato del primo termine per b b nel nostro caso è uguale a 3ab che vado a ricopiare ora 3 per 3 ottengo 9 2 per 2 ottengo 4 e quindi scrivo a alla quarta per a per b e quindi a conti fatti abbiamo 9 a alla quinta avendo sommato gli esponenti delle a 4 più 1 e poi ricopio b e quindi il secondo termine è pari a 9 a alla quinta b calcoliamo ora il terzo termine 3ab alla seconda e quindi scrivo 3 per a ossia ricopio il primo termine a alla seconda per b alla seconda e quindi devo scrivere 3ab tutto quanto alla seconda ricopio 3a alla seconda e sviluppo questo quadrato 3 alla seconda è pari a 9 e poi a alla seconda b alla seconda 3 per 9 ottengo 27 ed ora moltiplico a alla seconda per a alla seconda sommando gli esponenti e quindi ottengo a alla quarta e poi o b alla seconda e allora il terzo termine dello sviluppo è pari a 27 a alla quarta b alla seconda calcoliamo infine b alla terza b è pari a 3ab e allora devo scrivere 3ab tutto quanto alla terza 3 alla terza ottengo 27 a alla terza b alla terza e quindi il quarto termine dello sviluppo è pari a 27 a alla terza b alla terza vediamo quest'ultimo esempio abbiamo 2x più 3 alla terza utilizziamo la prima formula a nel nostro caso è pari a 2x e allora devo calcolare il cubo del primo termine ossia 2x alla terza 2 alla terza ottengo 8 e poi ho x alla terza e quindi il primo termine è pari a 8x alla terza poi più 3 alla seconda b e allora scrivo 3 per il quadrato del primo termine ossia 2x alla seconda per b dove b è pari a 3 ora moltiplico 3 per 3 ed ottengo ho 9 per e sviluppo questo quadrato 2 alla seconda è pari a 4 e poi ho x alla seconda 9 per 4 è 36 e quindi il secondo termine dello sviluppo è pari a 36x alla seconda calcoliamo ora 3 a b alla seconda e allora scrivo 3 per a ossia ricopio 2x per b alla seconda e allora devo scrivere 3 alla seconda 3 alla seconda è pari a 9 e scrivo direttamente 9 3 per 2 è 6 per 9 ed ottengo 54x e quindi il terzo termine dello sviluppo è pari a 54x infine devo calcolare b alla terza e quindi devo scrivere 3 alla terza 3 alla terza è pari a 27 e con questo termino il tutorial sui cubi di binomio effettivamente ho un mis un un numero Grazie.